Nell'era dei social e dei media pare che tutti possano insegnare tutte cose, ci sta che ti insegna la ginnastica, che ha economia, che ha politica, ci sta persino che ti insegna a parlare in cursivo, eh già, ti insegna a parlare in cursivo, roba che sapessi che sia la mia maestra dell'elementare come si facesse a parlare in cursivo ma avesse trattato il telefono che ancora ora stava girando e manco più col calco dentale mi avrebbero riconosciuto, in un'epoca in cui tutti sono professori, pure quelli che credono che l'ecografia sia una scrittura ecologica, ma chi può davvero ricevere chi sbaglia e chi no, chi si può abrogare il diritto di giudicare, discriminare, relegare, ma vorremmo finire appunto a stu cazzo dei diritti, pigliatela, mettitevelo sul petto, ecco, così, musica avete trovato uno strunz a cuidare la colpa di tutte le frustrazioni che te ne la rinde un'epoca di tutte le frustrioni che si facesse a parlare in cursivo ma avesse un'epoca di tutti le frustrioni che si facesse a parlare in cursivo ma avesse